Direttore Ventano, eccoci direttore, allora. Scusatevi, ma siccome vi avevo promesso quella notizia, appena la verificavo e ve la confermo, c'è stato l'incontro di Zingaretti di Maio, ma non solo. Nell'incontro di Zingaretti di Maio è venuto fuori un elemento che potrebbe essere un macigno, perché sulla scia di quello che avevamo già capito un po' dal blog di Grillo di questa sera, il Movimento 5 Stelle pone la condizione che Di Maio, scusate, che Conte resti a Palazzo Chigi, che è proprio quello che aveva escluso Zingaretti, proprio nelle interviste dei giorni scorsi. L'elemento di discontinuità che chiede il PD e l'elemento invece di continuità che chiede il Movimento 5 Stelle come discriminante. Quindi è un macigno, obiettivamente, è un elemento forte di contraddizione sulla strada di un accordo. Poi ci sono i minitori nei padellari, siete voi due, siete in grado di inizio da soli di giudicarlo e di raccontarlo.